Il paradosso che stiamo vivendo nel mondo Milan e in tutta la situazione che riguarda la panchina, l'allenatore e quindi il futuro è che rischia di trovare prima squadra l'allenatore che se ne va che di trovare il nuovo allenatore, chi quell'allenatore lo sta per mandare o comunque pare abbia già deciso di mandarlo. Mi riferisco ovviamente a Stefano Pioli che è sempre più nei pensieri e nei programmi e nelle volontà di Aurelio De Laurentiis e del Napoli e di un Milan che invece attende di capire quali sviluppi seguiranno in quel dio porto tra Conce Sao, il nuovo presidente Villas Boas, che attende di capire quel che sarà della vicenda Fonseca, che attende di capire se può davvero sperare e tentare di fare colpo grosso con Tiago Motta e che chissà possa sorprendere tutti andando davvero su chi è il prescelto da sempre dei tifosi, ovvero Antonio Conte. Ma il paradosso, dicevo, è proprio questo, cioè che Stefano Pioli oggi sembra avere già nella sua testa, o meglio, nelle sue possibilità, ecco, quella di continuare un'avventura in panchina stimolante, stimolante dal punto di vista della piazza, della classifica, dei risultati, degli obiettivi. La rinascita del Napoli è davvero un qualcosa per cui la piazza pretenderà molto e sosterrà molto, ecco, e quindi andare a Napoli e riprendere in mano una situazione che è completamente sfuggita dopo lo scudetto vinto con Luciano Spalletti sarebbe una proposta da grandi stimoli, da grande palcoscenico. Dall'altra parte ho fatto quattro nomi per il Milan, non è da escludere che se ne possa aggiungere qualcun altro, i soliti Farioli, Marco Ros dell'Ipsia, insomma, è sempre un casting questo molto, molto numeroso e da quello che percepiamo la sensazione da Casa Milan dopo la fuga di notizie su Lopeteghi è che si tenti in qualche modo il più possibile di tenere insabbiato, nascosto, il lavoro sotto traccia che comunque va avanti. È un lavoro in questo momento ancora di valutazione e non di scelta definitiva, vedremo quando il percepito, le indiscrezioni, il sentore, il sentimento, ci porterà a dare un nome più di un altro o comunque di parlare di accordi e di firme e di scelte fatte certo è che la situazione inevitabilmente va a pesare su quello che è, su quella che è e sarà la programmazione per la prossima stagione, programmazione per la prossima stagione che deve e dovrebbe inevitabilmente iniziare il prima possibile perché anche solo parlare di attaccanti, si parla tanto di Sesco che è un attaccante che mi piace tanto, mi intriga tanto però la prima domanda che mi sorge è questa ma come si fa a pensare a un attaccante quando ancora non sai che progetto tecnico adotterai? perché è inevitabile, è su tutto al più, nel calcio moderno che il progetto tecnico dipenda soprattutto è vero dalla società, è vero dalla politica societaria, è vero dal modus operandi dei dirigenti ma è vero soprattutto che dipenda da quello che è l'imprinting che vorrà dare l'allenatore e oggi di allenatori tra risultatisti, visionari e scienziati ci sono davvero molte sfumature cui tenere conto quindi è chiaro che in questo momento si debba dare una priorità alla scelta in panchina si debba dare ulteriore priorità all'impianto societario nel senso che il Milan è una società che deve chiarire una volta per tutte a se stessa e anche all'esterno chi decide cosa, chi decide quando, chi decide per chi, chi ha l'ultima parola questi sono tutti i parametri che si dovranno stabilire tra Ibrahimovic, Furlani, Moncada, Ottavio, Scaroni e Cardinale li ho citati tutti per non fare torti a nessuno e per tenere tutti comunque in considerazione e quindi da lì poi si potrà davvero pensare all'attaccante, alla rosa, alla grande cessione se ci sarà e veniamo un po' al campo, quello che penso due grandi temi appunto, la cessione e l'attaccante il mio pensiero è questo, ma sono considerazioni personali se dovessi scegliere io chi sacrificare non avrei dubbi su chi scegliere sacrificherei assolutamente il portiere perché credo sia molto più facile sostituire un portiere che sostituire un giocatore di movimento soprattutto in una squadra che perderà un leader tecnico come Giroud e non solo tecnico, un leader più a tutto tondo e soprattutto in una squadra che è comunque sempre ricca di giovani in divenire e di giovani in divenire essendocene nell'undici di movimento io credo che si debba aver bisogno di picchi, di eccessi che in questo momento nei dieci di movimento sono rappresentati da Tornandes e Leao che sono e che costituiscono tutte e due una fascia sinistra ma soprattutto due picchi, due apici della rosa davvero di notevole importanza e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista caratteriale di tempra, di considerazione il portiere invece, Sommer all'Inter, dimostra, ma anche Milinkovic-Savic al Torino dimostrano che pur non essendo fenomeni, pur non essendo grandi campioni pur non essendo nell'elite del calcio europeo almeno come tipologia io non penso di offendere nessuno se dico che Sommer non credo rientri nei primi cinque portieri d'Europa ma dimostrano, Sommer e Milinkovic-Savic con i loro numeri alla voce clean sheet dimostrano che quanto basti una difesa rocciosa, una difesa consistente una difesa affidabile per far emergere anche la figura del portiere e quindi il piano che farei io, che adotterei io è questo via Mignon, magari che ti fa un grande europeo con la Francia a quel punto potresti chiedere 80-90 c'è Di Gregorio Amonza che secondo me è un portiere di assoluto spessore sta migliorando molto anche coi piedi è inserito in un contesto di gioco, quello di Raffaele Palladino che prevede anche l'utilizzo del portiere come giocatore di movimento come piace e come vuole il calcio moderno e soprattutto un giocatore che tra i pali è un giocatore straordinario dimostra sempre con interventi a cadenza settimanale di essere un portiere di assoluto livello quindi 80-90 per Mignon, prendo Di Gregorio mi rimangono i soldi per l'attaccante sul tema attaccante io non avrei dubbi andrei su Joshua Zierze i palati più raffinati mi risponderebbero immediatamente così ma è un numero 9 Zierze io non so se Zierze sia effettivamente un numero 9 come intendiamo noi, quello da 20-25 gol a campionato ma so che Zierze il nostro campionato lo conosce le nostre difese le conosce e sa come imporsi e come ritagliarsi spazio in una partita sa come incidere, sa che corde toccare e sa come muoversi nei nostri stadi anche perché dico questo e sottolineo questi valori queste caratteristiche perché chi verrà lì in avanti inevitabilmente avrà una fatica ulteriore e la fatica ulteriore è quella di dover entrare in un contesto nuovo senza avere l'esempio davanti cioè avesse preso il Milan l'attaccante del futuro con Giroud in rosa l'attaccante del futuro avrebbe avuto tempo e modo per inserirsi raccogliendo tutti i segreti del mestiere da un esperto come Olivier Giroud e poi avendo tempo, avendo Giroud di ritagliarsi con calma lo spazio qui senza Olivier Giroud chi verrà dovrà emergere subito dovrà prendersi subito il Milan sulle spalle ecco perché la mia ricetta è questa via Mignan dentro Zierze con Di Gregorio in porta ma prima di impiantare o comunque di mettere insieme e di provare a completare questo piano c'è un qualcosa di molto più importante da fare società, panchina perché oggi il paradosso è questo può essere che sappia molto di più Stefano Pioli cosa fare da grande che il Milan è un'altra